Rino Bedeschi è un imprenditore, Ludovico Mazzarolli è ordinario di diritto costituzionale a Udine e avvocato. Si aggiungono due nomi alla lista di candidati che il prossimo 12 giugno correranno a fianco di Francesco Peghin per la conquista di Palazzo Moroni. Internazionalizzazione è l'obiettivo di Rino Bedeschi che da 30 anni opera nell'impresa di famiglia, un gruppo attivo nel settore delle infrastrutture portuali e del trasporto di materie prime. È un progetto nuovo di turismo culturale lento in città, quello che spinge a candidarsi Ludovico Mazzarolli che condivide quattro parole chiave, ordine, decoro, pulizia e valorizzazione dei talenti. Due persone straordinarie, concrete e competenti che hanno condiviso con me la costruzione di un progetto civico vero con al centro la credibilità, il commento del candidato sindaco Francesco Peghin.